il california casino un posto storico perché perché qui si giocavano le partite di craps di dadi più grosse forse di las vegas e una delle caratteristiche strane che hanno a parte la pasta pirata che se non so avete visto fanno anche la pubblicità la pasta che sicuramente l'avranno inventata grazie a me questo è un posto dove se tu entri a un hotel california premio ci sono tutti hawaiiani perché hanno un famoso deal con hawaiian air mi sembra e portano gli hawaiiani qua a giocare infatti se tu vai dentro c'è la maggior parte delle persone che giocano sono proprio delle hawaii che sempre america però si notano perché ovviamente hanno i contorni asiatici